Può essere utile andare ad analizzarlo e che cosa ci sta dicendo? Sì, allora guardate, il codice MMFI indica la media delle azioni sopra 50 periodi, quindi americane naturalmente, quindi stiamo parlando di un indicatore di momentum che io ritengo molto interessante perché ci aiuta notevolmente nella ricerca di un estremo di mercato. Come noti il valore, qui ho messo un grafico settimanale, il valore è a 21,74 e già siamo in una fascia molto bassa di estremo, cioè vuol dire che solo il 21% dei titoli azionari americani è sopra la media 50, praticamente stanno scendendo quasi tutti a dei livelli molto importanti. A settembre, no scusa, nel marzo pieno scoppio della pandemia eravamo arrivati al 4%, quindi quello sì era una vera esagerazione, ma se noti abbiamo appena superato anche un livello di settembre e se ricordi bene ottobre è stato un mese di scatto realzista un po' su tutti i mercati, tra cui anche e soprattutto l'Italia. Quindi siamo praticamente in una zona più difficile di settembre, perché appunto c'è una vendita superiore dei titoli, ma ancora non a livelli così estremi come appunto nel pieno scoppio della pandemia. A mio avviso questo indica che già molti dei titoli sono stressati a ribasso, dunque potrebbe essere il caso che da qui nel giro di una settimana, ricordiamoci questo è un indicatore settimanale, se lo mettessimo giornaliero che è un po' più preciso, andremo probabilmente a testare i minimi di questo periodo. Secondo me, al di là del fatto che potrebbe esserci un cambio di tendenza di lungo periodo negli indici azionari, questo indice ci sta a dire che comunque una pausa è necessaria, una pausa che potrebbe riportare questa quota intorno, secondo me, tra il 35 e il 40% dei titoli, quindi lì poi valuteremo altri aspetti, se risciortare tutto o meno. Dunque, attenzioniamolo perché è un indice importantissimo. Molto bene, insomma abbiamo aggiunto ulteriori informazioni, insomma questa seduta sicuramente importante, adesso il MIB perde il 3,2%, quindi si sta riavvicinando ai 24 mila punti, chissà che non riesca a riacciuffarli proprio per il rotto della cuffia in chiusura di seduta. Tornando però al mercato americano, dove il Nasdaq 100 peraltro adesso si è riportato al valore che riportava il future poco prima dell'avvio delle contrattazioni dell'indice cash, e quindi meno 0,7, meno 0,8%. Lorenzo, qualche titolo che stai seguendo con attenzione? Uno, ad esempio, insomma, l'ho citato anche in avvio di contrattazioni per una partenza sicuramente pesante, e cioè quella di Alibaba, non è la prima volta che andiamo a guardarlo, ma insomma sicuramente è tra i titoli più attuali ultimamente, insomma, di quelli quotati negli States. Sappiamo, insomma, che Alibaba comunque è la versione cinese, insomma, di Amazon. Peraltro, insomma, chi segue il report sulla RAI, insomma, abbiamo visto anche un approfondimento importante su questa società. Alibaba oggi perde il 2,3%, al momento la candela è verde, quindi in questo momento evidentemente ci sono in corso degli acquisti, e ci troviamo a 207,29 dollari ad azione. Che cosa succede su Alibaba perché lo segui con attenzione e dacci una tua view, Lorenzo? Sì, le ricoperture attuali sono interessanti perché il prezzo su settimanale è arrivata a una media 200, che già da tre settimane tiene i prezzi sopra i 200 dollari. Allo stesso tempo questo livello per me è un livello molto importante perché ci ha notevolmente allontanato da qualsiasi prezzo di equilibrio che si era riformato precedentemente e che era intorno ai 250. La società, per quanto possa avere dei problemi politici legati appunto al mondo della Cina, attualmente dei suoi rapporti con l'America e comunque è un'azienda, a mio avviso, importante che sta facendo dei passi strutturali per il dominio nella parte asiatica per i prossimi 10 anni. I prezzi di 200 dollari secondo me sono un fervelio per l'azienda attuale, quindi il mio scopo è valutare un trade di breve proprio sui livelli attuali con uno stop sul minimo che abbiamo visto un paio di settimane fa, quindi 198 e se dovesse tenere questo minimo cercherebbe di portarlo fino a circa 225 anche 230, se invece dovessimo vedere il prezzo stabilizzarsi sotto la media 200 allora lì si aprirebbe un'ottica assolutamente differente e purtroppo non vedo altri supporti prima dei 130, quindi è per questo che è interessante perché qui appunto i buyer devono farsi sentire, ecco il mercato è in mano loro e loro dovranno farsi sentire proprio in questo momento. Alibaba dunque che insomma opera nel mercato dell'e-commerce, ricordiamo che oggi Amazon perde lo 0,9% quindi sta limitando le perdite così come anche Facebook, più pesante Apple meno 2,08%, Tesla meno 1,06%, mentre Nvidia corre tanto più 4,55%, bene anche Netflix che guadagna lo 0,75% in controtendenza, pesante Google meno 1,4%, segnalo anche l'andamento del titolo WWE meno oggi meno 2, questo però è settimanale chiedo scusa, oggi meno 2,81% perché ve lo segnalo perché è uno delle prime compagnie, una delle prime aziende insomma ricordiamo che è un settore quello dell'entertainment che ieri insomma ha dato il via a nuovi pay per view dal vivo quindi spettacoli quelli legati al wrestling americano con pubblico all'interno delle arene al chiuso e insomma sono state pubblicate anche diverse fotografie con la maggior parte dei presenti, eravamo intorno alle 30.000 persone fisiche, la maggior parte senza mascherine e insomma oggi comunque non esce, non fa eccezione rispetto all'andamento generale del mercato e quindi meno 2,8% oggi. Dunque abbiamo parlato di e-commerce, stiamo parlando anche dell'entertainment ma siccome si parla di nuovi timori legati al covid andiamo su un titolo invece che riguarda sempre insomma in qualche modo il web ma anche legato ai viaggi e quindi TripAdvisor quotato sul Nasdaq, Lorenzo oggi anche qui candela verde meno 0,7% sul daily, sicuramente minimi importanti che non si vedevano dal 4 febbraio scorso, il trend comunque è ribassista già a partire da marzo, che dici di questo titolo Lorenzo? Guarda è un titolo che ha perso tantissimo e dai top ma soprattutto dall'ultimo supporto che era circa 40 dollari adesso già siamo un altro 12% sotto quindi mi inizia a piacere questo titolo perché nella confusione, nella vendita da paura di covid e versione delta o meno il titolo appunto è stravenduto. La ricerca di un supporto a questo punto è interessante, oggi non mi aspettavo questa candela di rimbalzo in giornata però mi indica anche che appunto potrebbe essere che il prezzo sia molto interessante per una notevole fetta di investitori. Quindi a questo punto 31 dollari è il nostro key level, quindi sotto 31 si mette lo stop e da questa fascia fino al recupero dei 39-40 c'è spazio per crescere. Il rischio rendimento non è sicuramente in questo momento molto eccezionale, meno 10 e più 13, certamente più ci avviciniamo ai 31 più è probabile la possibilità di un'inversione rialzista. Quindi mi piace molto, è un titolo che ha tutte le caratteristiche del 3, che ricerca il trader. Volatilità legato alle news e su supporti quasi importanti, quasi su supporti importanti perché manca ancora un po' però siamo lì. Candela verde di oggi significativa quindi abbiamo tutto quello che ci serve. Bene, poi magari se riusciamo prima della fine c'è una domanda di Sergio che chiede un parere su Palantir. Se non riusciamo a darglielo oggi glielo daremo domani mattina, è una promessa. Perché con Lorenzo stiamo raccontando un po' qualche titolo all'interno di una seduta molto pesante come quella di oggi che comunque può riservare qualche spunto interessante in ottica acquisto. Il prossimo che ad esempio guardiamo insieme a Lorenzo è TransOcean, che riguarda la produzione di oleodotti se non ricordo male. Corregimi se sbaglio. TransOcean è una società svizzera quotata al Nasdaq che si occupa del settore legato al petrolio ma appunto nella parte industriale. Si tratta di TransOcean diciamo la pronuncia per far capire che è scritto TransOcean e quindi qui la pronuncia Lorenzo ce l'ha in un modo, io ce l'ho in un'altra. Comunque è giusto per intenderci, non ce n'è una corretta, scusate non ce n'è una sbagliata. Era per essere più precisi possibili. Il ticker è RIG, quindi Rimini, Imola, Genova, TransOcean, quotata appunto, o meglio società come diceva Lorenzo, Svizzera, quotata anche negli Stati Uniti. Oggi anche in questo caso Candela Verde, meno 3,43% ma sono in corso acquisti oggi e siamo sui minimi da maggio 2021. 3 dollari è il mio livello di supporto, siamo a 3,30 quindi capisci siamo molto vicini, ma la cosa molto più interessante di questo strumento è che aveva delle quotazioni molto più alte in passato e finalmente proprio i recenti massimi mi hanno dimostrato un possibile cambio di trend di lungo periodo, quindi creando questi due massimi crescenti e si spera a questo minimo che non riesca più a rompere i 3 dollari, quindi mettendo un altro tassello a un minimo crescente, con l'obiettivo di arrivare sopra la media 200 che attualmente è a circa 6 dollari e mezzo. L'azienda sconta probabilmente adesso questo timore del petrolio, della diminuzione dell'utilizzo del petrolio per le autovetture e altri, quindi in automatico i loro ordinativi per le loro piattaforme offshore e altro, però io penso che sia attualmente troppo presto per preoccuparsi e che invece l'azienda riuscirà a trovare una sua sistemazione in questo nuovo ambito. 3 dollari quindi è molto vicino, è un prezzo dove si piazza lo stop e si punta appunto al rimbalzo anche abbastanza in fretta. Perfetto, questo per quanto riguarda TransOcean, vediamo anche un altro titolo legato a un settore che, se non ricordo male, segui con attenzione insomma da sempre e andiamo nel settore cannabis, in questo caso Aurora Cannabis, corretto? Sì, sì, Aurora Cannabis. Ancona, Como, Bologna è il ticker, se volete visualizzarlo anche voi sulla vostra piattaforma, siamo a 6,85 dollari ad azione e oggi un meno 2,7%. Lorenzo? Allora, questo titolo è così come tutto il settore, se ne era parlato tanto nell'ingresso di Biden come presidente, poi attualmente non si sono mantenute quelle promesse che si sperava della liberalizzazione in America, che è il mercato più grande e quindi dopo una fase di euforia che abbiamo visto fino a febbraio, le quotazioni si sono affievolite, però adesso circa 6,60 dollari è lo stesso prezzo che avevamo a maggio, da cui ha avuto la capacità di raggiungere 10 dollari e se dovesse tenere allo stesso livello di maggio, quindi abbiamo un vantaggio statistico anche qui interessante, quindi uno stop abbastanza stretto su cui puntare per un rimbalzo. Quindi giochiamo un po' di anticipo, ma giochiamo su dati del passato che potrebbero ripresentarsi. Sotto questo livello è importante fermarsi, quindi mettere lo stop perché giustamente abbiamo un vuoto, un vuoto importante fino a 3 dollari e mezzo. Ecco perché lo stop è importante. Ma appunto il nostro vantaggio è sfruttare questi estremi di vendita in cui quasi non si ha il coraggio di comprare e che invece a volte ci regalano grandi sorprese. Riusciamo a rispondere a Sergio Lorenzo andando a vedere Palantir? Perfetto, grazie. Palantir, innanzitutto invito Sergio a controllare il mio sito V-Training perché ho scritto un articolo su Palantir proprio un paio di settimane fa analizzando un po' tutta l'azienda, quindi sarebbe interessante anche per lui poterlo leggere. We-Trading.eu, caro Sergio Lorenzo. E poi il fair value che avevo analizzato era intorno ai 15-18 dollari. Ci sono diverse motivazioni, ma soprattutto perché l'azienda, seppur innovativa, ha ancora dei lati molto deboli rispetto ad altre concorrenze. In questo momento infatti ancora continua a scendere, anche se oggi forse sta rimbalzando, è a meno 0,09 dell'open, quindi praticamente quasi pari, però appunto io me l'aspetto molto più in basso, quindi non ho fretta di acquistare questo titolo che tra l'altro è stato uno dei più tradati e volatili e quindi bisogna andarci con i piedi di piombo. L'amico peraltro, chiedo scusa perché non ho letto il messaggio per intero, dice Bruno Pereira su Palantir che sta rimbalzando su un supporto molto importante a 21 dollari, ci spiega, e sembra reagire con convinzione. Beh, diciamo che hai appena risposto, insomma, la lettura non cambia. Non vedo questo supporto, però per me il supporto è molto più in basso, però comunque appunto per me il long è pericoloso. Long pericoloso sui 21 che Sergio indicava e che vi ho appena segnato, insomma con questa nuova linea gialla, mentre insomma appunto Lorenzo ci spiegava che lo vede un po' più in basso, questa è la situazione su Palantir. Però insomma come detto wetrading.eu per avere ulteriori informazioni. Notizia sempre di oggi, un giornalista italiano positivo al Covid all'arrivo a Tokyo, perché come sapete insomma in tutto questo Tokyo e il Giappone è atteso alle Olimpiadi senza pubblico e che probabilmente sono le Olimpiadi più complicate e difficili della storia e forse per questo motivo se si riusciranno a svolgere regolarmente saranno le più importanti, insomma che potrebbero effettivamente lanciare un messaggio molto forte insomma per il futuro. Bisogna capire quanto terrà la bolla insomma delle Olimpiadi, della casa olimpica e quanto riuscirà a essere tale. Sta di fatto che, questa è una notizia di oggi, il cronista italiano in Giappone per seguire le Olimpiadi al via tra pochi giorni è atterrato domenica allo scalo di Aneda con un volo proveniente da Fumicino. A bordo era tra gli altri, c'erano anche gli azzurri della squadra di basket che come sapete insomma dopo 17, dal 2004 non riusciva a partecipare alle Olimpiadi e c'è riuscita finalmente, incrociamo le dita anche per il fatto che fosse presente nell'aereo con questo giornalista e la squadra di ciclismo che è sempre tra le favorite alle Olimpiadi, lo ricordiamo. Nessun contatto era avvicinato con il giornalista, risultato positivo al tampone, salivare. Questa è la notizia che riguarda l'argomento Olimpiadi e in generale Tokyo. Grazie a Lorenzo Sentino che ci ha raccontato un po' la sua view su alcuni itali interessanti in una giornata particolare come questa. Buon lavoro Lorenzo, wetrading.eu per seguirti da vicino. A presto, buon lavoro. Grazie a tutti, buon lavoro anche a voi e buon trading. Bene, le borse chiuderanno con una perdita del 3,3% per quanto riguarda Piazza Affari.